Lucrezia confessa a Manuel. Ieri Alex mi ha stretto quattro volte il viso e mi ha baciata. Io non volevo. È stato lui a prendere l'iniziativa ma era ubriaco. Diceva che sentiva odore di carne fresca. Poi mi ha baciata anche Sophie. Erano veramente fuori ieri. Alex ha bevuto troppo. Aldo risponde che Manuel dovrebbe essere geloso ma Manuel risponde che Alex scherzava. In effetti ieri Alex ha baciato anche Soleil e Sophie ed era molto ubriaco. Ma ciò non vuol giustificare un gesto simile. Ha mancato di rispetto a Manuel ma oltretutto a sua moglie che deve assistere a queste sue performance senza poter dire nulla. Ci vorrebbe un chiarimento in diretta. Canale YouTube Fabio Pecce